Visto che parliamo di Roma, possiamo fare un presentatore romano. Eccoci qua amici, benvenuti da una giurata, buongiorno a tutti, sono molto simpatici. Anzi, volevo ringraziare Francesco Maritozzi che mi ha immarato. Maritozzi, prego. Maritozzi, ecco, quello lì, quello lì, comunque sia, adesso facciamo entrare un signore con il suo cane. Allora, il cane si chiama Franco, il signore si chiama Bobby. Bene, buon inizio, rifine di inizio, vabbè, salutiamo il pubblico femminile e anche il pubblico femminile. Bravi, grazie, arrivederci.